a proposito oggi è giovedì qua ci sono le truffe meraviglia? Marti mi manda a casa questa è meravigliosa andiamo a vedere Pellina amore adesso non vai più nell'angolo opposto tu addirittura di spalle vieni ok vabbè dobbiamo cercare casina fa tanto tanto caldo e c'è bisogno che piuttosto di andare in piscina voi portiate all'ombra queste bamboline guardate che meraviglia ma si scende i piccoli gesti i famosi piccoli gesti ok vabbè dai era un seruso veloce di giovedì 11 giugno penso 12 boh cacchio ne so portiamo a casa Candy facciamo girare il suo album anche quello di Martina che ti sta a nascondere qua dietro vieni qua amore dolcissimo vabbè ecco sempre a fare i bisogni e le bamboline vabbè un discorso un discorso che che va al di là vero Pellina eh sono finiti gli ossi di prosciutto ma ritorniamo ai come si chiama ai ai i tagliallini della polla un cellulare vediamo se si risponde eh se si prende ciao baci portiamo a casa le piccole fate girare gli album